La risoluzione del caso di Via De Gani potrebbe essere tutta racchiusa nell'analisi del DNA. La procura ha affidato ad un genetista all'incarico di scovare nuovi elementi nel caso dell'omicidio dell'ex fisioterapista 67enne Giorgio Gambarelli, sgozzato in casa nella giornata di sabato e poi chiuso a chiave all'interno della sua abitazione dallo stesso assassino. Il sostituto procuratore Ornella Chicca, che sta coordinando le indagini del nucleo investigativo dei Carabinieri, ha preferito affidarsi ad un super esperto per avere nuovi elementi utili a incastrare il colpevole. Anche in questo caso sarà fondamentale il confronto tra il tipo di DNA trovato e quello dei sospettati. In caso positivo il caso si potrebbe chiudere molto rapidamente. Ornella Chicca ha precisato che le indagini proseguono comunque a 360 gradi.